Salve, Sindaco Goodwin. Roide, la consegna dei fuochi d'artificio è stata un vero pasticcio. Invece di ooo e ooo, abbiamo oink. Sei porcellini, per essere esatti, e stanno correndo ovunque. Non si preoccupi, Sindaco. L'aiuteremo a radunare i porcellini e a trovare i fuochi d'artificio. Niente affaticoso per un cucciolo coraggioso. Oppure... Un porcellino da borsetta? Fermati! Rete! Sindaco Goodwin! Beh, almeno hai preso qualcosa. Fermate quel maialino! Oh! 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 Ecco a te! Solo non dirlo a Cicaletta. È terribilmente gelosa. Oh! 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 Presi due e ne mancano quattro! Bravissimo! Chase! Sulla spiaggia! Due porcellini in una coperta! Porcellini in una coperta. Questa devo proprio vederla. Eh? Oh! 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 Ma? Oh! Qui sotto! Operazione rilascio del maialino! Ben arrivato, piccolino! Porcellino numero quattro! Ecco del buon gran turco per questi piccoli porcellini! No, no, non essere gelosa, cicalinza! Ci sono altri due porcellini in giro, Chase! Dobbiamo trovare anche loro e i fuochi d'artificio! Tranquilla, li troveremo! Katie, hai forse ricevuto altri pacchi oggi? Quello lì! Fuochi d'artificio! Rider, li abbiamo trovati! Perfetto! Coraggio, Marshall! Ne mancano due. Dove potrebbero essere? Rider, ne ho trovato uno, ma è in mezzo al mare! Mi serve il tuo aiuto! Sto arrivando! Marshall, porta i fuochi d'artificio a Capitan Turbot! Io vado ad aiutare Chase! Non c'è problema! Giubbotto salvagente attivato! Vieni qui, porcellino! Forza, Chase! Tu sai cosa fare! Uh! Rete! Ottimo lavoro, Chase! Grazie! Ma rimane ancora un ultimo porcellino da trovare! Ma certo! Sindaco, c'è altro gran turco! Oh, ne ho una borsa piena zeppa! Chase, vuoi chiamare il porcellino per la cena? Uh! Megafono! Oink! 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 Vieni qui, porcellino! Ottimo lavoro, Chase! Lo spettacolo pirotecnico sta per iniziare! Non abbiamo tempo di portare i porcellini a casa! Mi è venuta un'idea! Oui, 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 oui! Rider, grazie! Tu e la popatroll avete salvato il picnic d'estate! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! È già ora dei fuochi d'artificio! Quasi! Cinque, quattro, tre, due, uno... Sono stupendi! Magnifici! Che bellissimi! Magnifici! Che meraviglia! 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 Che meraviglia!